Per un Natale più dolce e raffinato, azienda dolciaria M Greco. Vastissima scelta di prodotti artigianali, frutta secca assortita, fichi elaborati secondo le tradizionali ricette cilentane. Per i tuoi regali di Natale, splendide confezioni natalizie e tanti prodotti unici. I prodotti M Greco sono lavorati esclusivamente nel laboratorio artigianale di Monte Corice con cioccolato di elevata qualità. Vieni a trovarci nei punti vendita ad Agropoli, in via Piave, a Capaccio, via Sandro Pertini e Monte Corice, in via Assunta, frazione Fornelli. Telefono 0974 96 40 47 M Greco, da oltre 40 anni, la qualità innanzitutto.